Ups a tutti i cari Upsi, Upsi, come, come, come state? Oggi sono qui solo per voi, per fare questo nuovo video. ASMR basato sulle sticky fingers, quindi le dita appiccicose. E niente, io quindi direi subito, subito, subito di cominciare, che ne dici? Perché non vogliamo perdere tempo. Quindi mi raccomando, indossa un paio di cuffie o auricolari. Stenditi sul tuo letto e prova a chiudere gli occhi. Che ne dici? Scusate se durante questo video guarderò molto il computer, ma stanotte ho avuto un sacco di problemi con l'audio. E li sto avendo ancora adesso perché io non sento niente. Ma ce la farò. Abbiamo vede. Allora, per cominciare e quindi idratare un po' le mani in modo da renderle un po' più sticky, ho qui. Questa crema mare e ne applicherò un pochino. Quindi cominciamo. Con un semplice trigger che secondo me però è veramente bello. Ovvero due bicchierini. Li adoro. Li adoro. Allora. 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 Adoro. Sentite proprio come sticky. Adoro. Ho qui con me ovviamente poi altri oggetti e vorrei provare con questa piccola scatolina nera che contiene gravatta, papillon e gemelli bianchi. Proviamo! Alla prossima! Fammi sapere se questo trigger ti piace. Ok. Rimani concentrato a me o concentrata a me. Che trigger farò adesso? Questo piccolo rotolo di carta banalmente è quello che trovi quando finisci la carta igienica. Alla prossima! In questo video sono proibite le unghie. Il più possibile ci focalizziamo sul tapping con i polpastrelli. e i polpastrelli. Alla prossima! Ok. Ok. Vediamo cosa fare adesso. Facciamo qualcosa di molto 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 classico. Tapping sul libro. Posso alternare momenti di fast tapping a slow tapping. Ok. 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 rilassate stare qua a fare i video ASMR, fidatevi è veramente rilassante, adesso voglio fare un altro trigger, questo qua, ho qua con me una scatolina a portaocchiare, un portaocchiare di mia sorella, e cosa faremo? Un bel po' di tapping, sentite proprio quanto sono stichi le mani, adoro grazie 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 mi fermo perché io altrimenti mi incanto nel fare i trigger e quindi non la smetto più, non la smetto più Adesso ho qua con me una bottiglia di Listerine, quello per le gengive. Aggiungiamo anche qualche water sounds. Alla prossima. Alla prossima. Passa così. Adesso invece ho un ultimo, ultimo, ultimo trigger che è quello di questa candela che sto usando quotidianamente al melograno e bergamotto. A me piace, a mia mamma per esempio, no? Alla prossima. Alla prossima. Ok. Ok. Allora. Fatemi sapere quale tra questi trigger che ho fatto è stato il vostro preferito. Quale avete preferito ascoltare? Ok. Poi lascia un bel like se il video ti è piaciuto così da spronarmi sulla piattaforma YouTube, spronarmi ad andare avanti a pubblicare video settimanalmente. Ok. E commenta anche se hai un po' di tempo. Lascia un bel commento in modo da diffondere positività, felicità. Ok. Il video di oggi purtroppo finisce qui ma se tu vuoi restare ancora insieme a me io ti lascio. Di qua il mio video precedente, di qua una mia playlist e qua sotto il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video tu vorrai, va bene? Ok. Ora ti mando un grande grande bacio e ci vediamo tra una settimana, va bene? Buonanotte, 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 buonanotte.